Buongiorno signori, buone notizie e conferme importanti su salario minimo e incentivi pronti a partire con la nuova manovra. Ma oggi parliamo anche di un nuovissimo e utilissimo servizio dell'Inps e di quarantena, ma non come state pensando voi. Sigla! Il ministro del lavoro Catalfo è appunto in questi giorni in quarantena precauzionale. I test covid per ora sono negativi, ma questo intoppo ha portato allo slittamento del tavolo del 25 settembre sulle pensioni che era in programma con i sindacati. Perché non si sia fatto tutto online? Beh, non saprei dirlo, ma importanti indicazioni su quel che sarà le ha fornite il presidente del consiglio. Recuperate questo video dove spiego tutto. Veniamo al nuovo servizio Inps disponibile da pochi giorni. Bene, finalmente i lavoratori in malattia potranno comunicare la variazione del proprio indirizzo di reperibilità, dato fondamentale per le visite mediche di controllo, direttamente online e in pochi secondi. Basterà infatti collegarsi al sito dell'istituto, cercare il servizio Sportello al cittadino per le WMC, visite mediche di controllo, e cliccare su Comunica indirizzo di reperibilità. Finito? In descrizione trovate anche il link diretto al nuovo servizio. Ed eccoci al piatto forte. La ministra Catalfo, sempre lei, in udienza alla Camera, ha confermato i temi centrali della prossima manovra. La volontà forte è quella di innalzare i livelli reddituali e salariali, adeguandoli davvero al costo della vita. Come? Beh, salario minimo orario, modulato dalla contrattazione collettiva, quella davvero rappresentativa, e detassazione dei rinnovi contrattuali. Sostegno poi alla contrattazione di secondo livello, prevedendo importanti sgravi e detassazioni in relazione a premi e bonus, legato ovviamente all'incremento della produttività aziendale. Il costo del lavoro, inoltre, che grava pesantemente sulle spalle delle aziende, verrà ridotto attraverso nuovi sgravi bonus contributivi per stimolare l'occupazione, soprattutto in riferimento a giovani e donne. Guardate, manca davvero poco, sono anche molto curioso e ancora, nonostante tutto, fiducioso forse sbaglio, ma vedremo. Un saluto a tutti da Mr. Lul.